salve ragazzi bentornati in questo piccolo video aggiornamento allora vi aggiorno su un po' di cose siamo in fase di trasloco qui a casa quindi mi prenderò qualche giorno per appunto fare il trasloco poi devo aspettare ancora la chiamata del tecnico per sapere quando potrà installarmi il nuovo modem visto che farò un cambio quindi ci sono un po' di problemi mi prenderò questi giorni per appunto fare il trasloco quindi non uscirà nessun video tranne domenica che uscirà come sempre il settimanalito mi prenderò quei 10 minuti per registrare in cui vi spiego meglio tutta la situazione rispetto a come sto facendo in questo video che saranno pochi secondi, un minuto, due minuti di video dove vi spiego quindi se non usciranno video è per questo motivo io intanto vi ringrazio anche per aver raggiunto i 130 iscritti so che state aspettando qualche video sul lecce quindi se uscirà qualche notizia come ho già visto ci farò un video, un mini video quindi un video flash di pure due minuti quindi quei due minuti posso farlo posso prendermeli per registrare qualche piccola cosa qualche piccola notizia soprattutto quella di Francesco e niente, seguiranno a breve aggiornamenti vi aspetto domenica per il settimanalito vi spiego tutto quanto e poi appena potrò tornare operativo con internet e con tutto il resto appena avremmo sistemato anche la fase del trasloco ricomincerò a pubblicare giornalmente tutto quanto anche i video del calciomercato ho in testa altre idee soprattutto anche per il lecce quindi non solo video di calciomercato ma altre cose che poi vi farò vedere più avanti detto questo ragazzi io vi aspetto domenica, ripeto per il settimanalito vi eseguiranno ovviamente aggiornamenti e niente, ci vediamo presto ciao ciao ragazzi